paolo franceschetti le religioni paolo franceschetti edizioni narcissus per la prima volta in un libro di religioni comparate vengono poi presentati alcuni aspetti poco conosciuti ad esempio per il cristianesimo la lotta tra cristianesimo cattolico e cristianesimo esoterico di stampo giovannita da cui nascono il templarismo il rosa crocianesimo e poi la massoneria e si ricollocano nella loro giusta dimensione grandi maestri come steiner scaligero oscio yogananda ma anche personaggi come maria maddalena san francesco e san benedetto e si dà conto dei vari studi sorti in questi anni attorno alla figura di cristo nell'ebraismo si darà ampio spazio al misticismo ebraico e alla cabala mentre nell'islam verrà dato ampio spazio al sufismo per dimostrare come per quanto riguarda i principali concetti spirituali tutte le religioni si toccano al vertice per portare un identico messaggio di pace armonia tolleranza